Un uomo come Draghi, che è stato evocato per mesi, se tutta estate si parlava di Mario Draghi tirandolo per la giacca, lui non aveva mai detto di no, non aveva mai detto di sì, semplicemente era stato in silenzio. In questo momento vedere la reazione dei mercati, vedere la reazione anche dell'opinione pubblica, è ben voluto Draghi, potrebbe essere un buon Presidente del Consiglio? Se avrà la maggioranza come credo avrà, me lo auguro, ce lo auguriamo. Secondo me Draghi non si può discutere per il suo spessore, per la sua qualità e per le sue competenze, ed è anche positivo che tutto sommato i mercati reagiscano bene. Come è naturale che larga parte della popolazione di destra, di centro e di sinistra sia così stremata da sperare che Draghi, anch'io stavo per dire Monti, come era successo dieci anni fa con Monti, sia l'ombre del destino. Ti ricorderai meglio di me quanto durò l'affinità elettiva e la luna di miere del signor Monti, che nel giro di 6-8 mesi passò dall'essere appunto l'ombre del destino al politico più detestato d'Italia. Io credo che Draghi sia molto bravo, molto efficace, lo racconta la sua storia, ha due problemi. Il primo è che non ha nessuna esperienza da Presidente del Consiglio. Non è una cosa da poco, perché lui dovrà mediare delle sollecitazioni totalmente diverse, perché dovrà gestire un governo che è, tecnicamente, una mucchiata. Il secondo problema legato al primo è, appunto, essere zavorrato, laddove partisse, da situazioni, personalità, ideologie e visioni di mondo totalmente diverse. Draghi può essere forte se ha un governo forte, un appoggio forte e una maggioranza forte e coesa. Ma come può essere coesa una maggioranza dove dentro ci sono Zingaretti, Renzi, Salvini e Berlusconi? Abbonati su tvloft.it e scarica l'app. Ora disponibile anche su Smart TV.